In occasione della ventiduesima edizione di Cielo Stellato giriamo il presente video con il foro stenopeico. Un obiettivo senza lenti, un piccolissimo foro che attraversato dalla luce produce un'immagine d'altri tempi. Questa tecnica ormai millenaria rivive ancora oggi in questa bella occasione. Grazie per la visione. Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti